Iniziate la rianimazione con 5 insufflazioni iniziali. Posizionate il palmo di una mano sulla fronte del bambino e inclinate la testa all'indietro. Poi posizionate due dita sul parte ossea del mento e quindi sollevate il mento. Con il pollice e l'indice chiudete le narici. Mantenete il mento alzato e con la propria bocca racchiudete completamente la bocca del bambino. Insufflate l'aria. L'insufflazione dovrebbe durare un secondo. Verificate l'inalzamento della gabbia toracica. Eseguite 30 compressioni con una mano sul sterno con una velocità tra le 100 e le 129 volte al minuto, imprimendo in un terzo di profondità del torace. Adeguate la forza della pressione alla costituzione del corpo del bambino. Continuate con la rianimazione con un rapporto di 30 compressioni-2 insufflazioni.